A rubrica Rozzotori, Foggia-Cadale o prefattita. Foggia in grande crescita è stato di forma addirittura assabiliante. De Zimbi probabilmente schiererà un 3-4-3 provato con il Cittadello in Coppa Italia, con le fasce Audi, Caiocolo, Idra e Eline avversari. Squadra veloce, Faccimbele comincerà a prestare di subito. Cadale alle Foggia è un 4-3-3 e per gli Ucari a Madola Moriero ha visto alluvare i spazi a squadra avversaria. L'attacco sarà un rebus, centrocampo con Musacci di Cecco e Castiglia e in difesa Garufo e Nonzella laterali chiamati a una partita di sacrificio e concentrazione assieme ai cobagli di riparto Bergiavelli e Barsini per cercare di fermare il pericolo numero uno, Iemmello, che è il capocannoniere di Gerona. Assiedi nel Catania-Kalil e nel Foggia-Angelo. Uzzoturi ci sarà a piccundare la partita. Allo stadio Pino Zaccheria di Foggia alle 20.30 sarà Foggia-Catania.